Le elezioni europee sono imminenti. L'8 e il 9 giugno i cittadini italiani si recheranno alle urne per eleggere i 76 nuovi europarlamentari. Eppure, anche a poche ore dall'apertura dei seggi, il panorama è ancora dominato da notizie fuorvianti e discorsi d'odio. In questa fase cruciale l'informazione è potere e per questo abbiamo deciso di raccontarvi tre storie su questa campagna elettorale, storie di quotidiano razzismo, transfobia ed esclusione. Perché questa tornata elettorale è importante per tante persone e la posta in gioco non è mai stata così alta. Sono Simone Fontana. Io sono Anna Toniolo. E questo è Veramente, il podcast di facta che una volta a settimana affronta i principali temi di attualità nell'ottica della disinformazione, raccontando il modo in cui false narrazioni e stereotipi impattano sulla vita di persone e comunità. Le elezioni europee sono ormai alle porte e domani, sabato 8 giugno, inizierà il weekend elettorale che chiamerà cittadini e cittadine a eleggere i 76 rappresentanti italiani al Parlamento europeo. In Italia si voterà sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Ma perché parliamo di elezioni in un podcast dedicato alla disinformazione? Ecco, la risposta è semplice, ma non banale. Perché mai, come oggi, l'Unione Europea è stata un bersaglio così ghiotto per attori intenzionati a inquinare il dibattito pubblico? Ed è nostra responsabilità, a un giorno dall'apertura delle urne, fare un breve recap su quali sono le ultime notizie false circolate in Italia. Candidati e candidate hanno promosso teorie razziste e homo-lesbobi-transfobiche, ma anche programmi elettorali dei principali partiti che parlano di crisi climatica e ambiente, non sempre nel modo giusto. Iniziamo però da qualcosa di apparentemente più innocuo, ma che di innocuo, credeteci, non ha davvero nulla. Parliamo di una dinamica che gli americani definiscono voter suppression, ovvero una strategia utilizzata per influenzare l'esito di un'elezione, scoraggiando o impedendo a specifici gruppi di persone di votare. In queste settimane, ad esempio, sui social è diventato virale un contenuto che spiega come il voto alle elezioni europee sarebbe subordinato al possesso del Green Pass, cosa naturalmente non vera, e un post che promette un referendum per l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea in caso di bassa affluenza alle urne. A tal proposito, vale la pena sottolineare che la Costituzione italiana non prevede un meccanismo per fuoriuscire dall'Unione Europea, contrariamente a quanto insinuato dal post in questione, né contempla alcuna conseguenza per una scarsa partecipazione dell'elettorato. La procedura di uscita dall'Unione Europea è invece regolata dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea, che prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un Paese membro. Quest'ultimo è semplicemente tenuto a fornire, e cito le parole del Trattato, orientamenti per la conclusione di un accordo che stabilisca le modalità di recesso di tale Paese, e dovrà poi attendere una delibera maggioranza qualificata dell'Unione dal Consiglio che delibera maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento Europeo. Si tratta di due bugie piuttosto facili da smentire, come abbiamo visto, ma non per questo meno pericolose. Perché l'intento ultimo di queste narrative è quello di spingere intere categorie di persone a disertare le urne, in questo caso antivaccinisti e detrattori dell'Unione Europea. E ciò è sempre un problema quando avviene attraverso una manipolazione delle regole democratiche. Il Parlamento Europeo, insomma, è un premio molto ambito da una platea piuttosto trasversale di disinformatori più o meno professionisti, pronti a tutto per far valere la bontà della propria agenda. Questo tratto, naturalmente, finisce per essere un po' più marcato in chi l'8 e il 9 giugno si giocherà una buona fetta del proprio futuro, ovvero i candidati e le candidate. Prendiamo il generale Roberto Vannacci, ad esempio, che sarà candidato con la Lega in tutte e cinque le circoscrizioni. Lo scorso 4 giugno, discutendo con alcuni giornalisti, Vannacci ha negato l'esistenza di un'identità di genere, paragonando le istanze delle persone che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita a difutili capricci. L'identità di genere, no? Cioè il fatto che io domani mi sveglio e se mi sento una donna tutti mi devono chiamare come una donna, devo andare nel bagno delle donne. Ma non è che esattamente una persona si sveglia. Sto parlando con un altro giornalista. Adesso però dobbiamo salire... Allora io a questo punto rivendico l'identità di età. Cioè domani se mi sveglio e mi sento un ventenne, mi devono cambiare la data di nascita sulla carta d'identità e magari vado in banca e chiedo un mutuo come se fossi un ventenne e non un 55. Ciò che dice Vannacci è semplicemente non vero e costituisce l'ennesimo attacco frontale nei confronti delle persone che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita in base alla loro anatomia. Ci sono infatti persone che crescono con una discontinuità tra sesso e identità di genere e la nomenclatura medica che descrive questa condizione è disforia di genere. Si tratta di una disforia appunto, cioè di un'alterazione dell'umore in senso depressivo che viene diagnosticata quando un soggetto con incongruenza di genere manifesta un significativo malessere psicologico o una compromissione funzionale associata all'incongruenza di genere. La diagnosi viene definita in base alla sofferenza del soggetto, non a un capriccio del medico o del paziente. Dal 2019 l'OMS non considera più la disforia di genere un disordine mentale, ma oggi è considerata dalla stessa organizzazione un disturbo della salute sessuale. Sarebbe anche superfluo doverlo specificare, ma nel manuale diagnostico non esiste alcuna condizione medica associata alla percezione dell'età, né al tentativo di richiedere un mutuo, come sostiene Vannacci, fingendo di avere vent'anni. Ma restiamo sul fronte leghista per un'altra campagna elettorale decisamente sopra le righe, quella della già eurodeputata Isabella Tovaglieri, ricandidata dalla Lega nella circoscrizione nord-occidentale. Secondo Tovaglieri, l'Occidente sarebbe in inesorabile declino, minacciato, e cito le sue parole, dall'avanzata dell'Islam fondamentalista, un destino distopico che la stessa sinistra italiana avrebbe favorito. Anzi, sarebbe addirittura la stessa Unione europea ad aver abbracciato, e cito ancora, l'Islam radicale, promuovendolo come modello europeo. Una vera e propria colonizzazione, per Tovaglieri, che da qui a 15 anni porterebbe la popolazione musulmana in Europa a raddoppiare. Secondo le parole di Tovaglieri, se non invertiamo la rotta, insomma, l'Islam, e sono le sue parole, conquisterà l'Europa. Forse avrete già visto questo video, l'ho registrato 5 anni fa a Molenbeek, un quartiere a pochi passi dal Parlamento europeo, completamente islamizzato, dove io ero l'unica donna a volto scoperto, non esistevano insegne in lingua occidentale ma solo arabo, e dove si erano nascosti gli attentatori del Bataclan. Denunciavo il rischio di un'islamizzazione incontrollata dell'Europa. E questa teoria sul futuro di islamizzazione dell'Europa ha un nome ben definito, che Tovaglieri cita più e più volte nei suoi interventi. Eurabbia. La crescita della popolazione musulmana nel continente, nonostante sia effettivamente più rapida rispetto a quella non musulmana, non sembra tuttavia andare nella direzione indicata da Isabella Tovaglieri. Secondo una proiezione del Pew Research Center, nel 2050 le persone di religione islamica saranno comprese tra il 7,4% e il 14% del totale a livello europeo, a seconda dell'impatto che avranno i flussi migratori. Se si domanda però ai cittadini e alle cittadine quanti credono che siano gli immigrati musulmani nei loro rispettivi paesi, ecco che la percezione del senso comune si avvicina agli allarmi della leghista. Per gli italiani ammonterebbero già al 19% della popolazione, una differenza del 14% rispetto ai numeri reali. Quello appena descritto è uno dei paradossi indagati dalla sociologia. Se una situazione è percepita come reale, allora sarà reale anche nelle sue conseguenze e Tovaglieri si muove proprio in questo abbaglio collettivo. Sul suo sito promuove addirittura una raccolta firme contro l'islamizzazione e per la difesa di una supposta identità europea. E per lo stesso scopo sfrutta anche le tematiche femministe, accusando ad esempio le femministe di sinistra di tacere di fronte a un video TikTok con appena 3000 like che propugna una visione retrograda della donna nella concezione dell'islam più radicale. L'insieme di indizi isolati, come l'esposizione di luminarie a Londra per la celebrazione della fine del mese del Ramadan, secondo la candidata leghista concorrerebbero a concretizzare la profezia evocata da Oriana Fallaci, appunto l'Eurabia. Citazioni delle opere della giornalista compaiono più volte sui social dell'euro parlamentare. Ad esempio su TikTok Tovaglieri ha pubblicato un carosello in cui è ritratta con un libro di Fallaci in mano, in cui si legge, e cito, il nemico c'è ed è già a casa nostra, non ha intenzione di dialogare. E l'immigrazione, non il terrorismo, il cavallo di Troia che ha penetrato l'Occidente e trasformato l'Europa in ciò che io chiamo Eurabia. Nel suo libro, La forza della ragione del 2004, Oriana Fallaci scriveva che l'Eurabia era, e cito ancora, un segreto di Stato, la più grossa congiura della storia moderna, il più squallido complotto che, attraverso truffe ideologiche, le sudicerie culturali, le prostituzioni morali, gli inganni, il nostro mondo abbia mai prodotto. Fallaci non aveva inventato nulla, come da sua stessa ammissione. Si era limitata a popolarizzare per il pubblico italiano un termine che, fino ad allora, era stato pressoché misconosciuto, persino per i lettori internazionali. La parola Eurabia era già stata usata nel 2002 da un'autrice ebrea, nata in Egitto ma naturalizzata britannica, chiamata Giselle Littman, ma conosciuta con lo pseudonimo di Bat Yeor, figlia del Nilo. Ma le tesi di Bat Yeor erano niente meno che una teoria del complotto, come argomentato da vari studiosi. Secondo questa sua teoria, durante la crisi petrolifera degli anni 70, le elite europee avrebbero siglato un accordo con la Lega Araba per acquistare petrolio a basso costo in cambio di immigrati. Il patto sarebbe stato anche strategico per rafforzare l'Europa sullo scacchiere geopolitico contro gli Stati Uniti, contro l'Unione Sovietica e proprio contro Israele. Come molte teorie del complotto, anche quella dell'Eurabia distorce alcuni nuclei di verità di un contesto storico molto più complesso di come invece viene presentato. Nel 1967, ad esempio, il re del Belgio Baldovino stipulò un accordo con l'Arabia Saudita per ottenere un vantaggio competitivo nell'acquisto del greggio, così da compensare la chiusura delle miniere di carbone. In cambio, ai Sauditi fu conceso di istituire una grande moschea a Bruxelles e di installarvi i propri imam, predicatori formati nello stato del Golfo secondo i precetti estremisti del wahhabismo. I lavoratori turchi e marocchini che da qualche tempo erano incoraggiati ad entrare nel paese come mano d'opera a basso costo, avrebbero così avuto un luogo dove pregare. A un certo punto, comunque, la teoria del complotto di Eurabia assunse una traiettoria inaspettata e si allineò, come osserva il professore di scienze politiche islandese Erkur Bergman, a quella delle nuove destre neonazionaliste. Gli attentati di Al-Qaeda negli Stati Uniti e in Europa e la crisi dei rifugiati alla metà degli anni dieci fecero entrare nel mainstream politico le idee di Bat Yeor. In un discorso tenuto durante il processo che fra il 2010 e il 2011 lo vide imputato per incitazione all'odio e alla discriminazione razziale, che poi lo vide anche assolto, il leader del Partito della Libertà olandese Gert Wilders parlò di elite multiculturali che stanno combattendo una guerra totale contro la loro popolazione. E a un certo punto parlava anche di un'Europa islamica, un'Europa senza libertà, ovvero Eurabia. Nel frattempo, però, il teso di Bat Yeor si inabissava nei bui anfratti internettiani della contro-jihad. È in uno di questi forum islamofobi che il terrorista norvegese e suprematista bianco Anders Breivik, responsabile dell'uccisione di 77 persone a Oslo e sull'isola di Utoia nel 2011, venne a conoscenza della teoria del complotto. Nel manifesto della strage, 2083 una dichiarazione europea di indipendenza, il termine Eurabia ricorreva addirittura 171 volte. È uno spartiacque. Da quel momento Eurabia è una parola maledetta, inestricabilmente connessa all'estremismo di destra. Entra a far parte della galassia delle spesso intercambiabili teorie del complotto demografiche, come la grande sostituzione o sostituzione etnica e il cosiddetto genocidio bianco, cui i terroristi suprematisti, dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, si appellano per legittimare omicidi di massa. Ancora Tovaglieri, in un post pubblicato su X il 27 maggio scorso, si domandava se quella in corso in Italia fosse un'immigrazione o sostituzione, richiamando così quello stesso umus culturale. Il 5 giugno 2024, poche ore prima di registrare questo podcast, la collega di partito Silvia Sardone, che come lei è candidata per un posto al Parlamento europeo, ha pubblicato sui social una didascalia che parla di, e cito, incubo Eurabia dietro l'angolo, e dice no a un futuro islamico per l'Europa. Risale allo stesso 5 giugno anche la notizia divulgata da Isabella Tovaglieri di un'indagine giudiziaria a suo carico, a seguito di una denuncia per diffamazione a mezzo stampa e per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Inutile girarci attorno. Le campagne elettorali portano con sé il consueto carico di propaganda, disinformazione e discorsi d'odio. Questa campagna elettorale per le europee non ha fatto eccezione, ma ci ha insegnato che la posta in gioco è più alta che mai. È alta per chi vorrebbe che alcune categorie di persone non votassero innanzitutto, ed è nostro dovere ricordare che arretrare di fronte a un solo diritto vuol dire innescare un meccanismo pericoloso, che mette a rischio a cascata tutti gli altri diritti. E questo vale anche per quelle categorie di persone che consideriamo più lontane da noi. La posta è alta per la politica e per i politici, più o meno di professione, che vorrebbero forgiare il volto dell'Europa nei prossimi cinque anni. E in ballo c'è tanto, dalla tenuta della transizione ecologica alla politica estera, talmente tanto che per qualcuno non è un problema mentire o ricorrere a teorie diventate tristemente famose nei circoli del suprematismo bianco. E questo vuol dire che la posta è incredibilmente alta anche per noi, giornalisti e giornaliste, elettori ed elettrici, che dobbiamo difenderci da quella propaganda e difendere quei diritti. Astenersi è una scelta rispettabile quando presa consapevolmente e senza la pressione della disinformazione, ma votare è un processo che richiede decisioni complesse e informate. In entrambi i casi, buon weekend elettorale a tutti e tutte dalla redazione di Veramente. FACTA è un progetto di debunking attivo dal 2020 e si occupa di verificare le notizie. Sceglie a chi non credere è il nostro slogan e sintetizza il nostro obiettivo, segnalare ai lettori quali notizie sono vere e quali no. Seguiteci sul nostro sito www.facta.news e sui nostri canali social, X, Facebook, Instagram e TikTok. Ci trovate anche su YouTube e abbiamo un numero Whatsapp interamente dedicato alla corretta informazione. Per contattarci basta scrivere ciao al 342 1829 843. Per rimanere aggiornati sugli articoli che pubblichiamo e sulle principali tendenze della disinformazione, potete seguire il nostro canale Telegram e il nostro canale Whatsapp. Il podcast di FACTA è scritto da Simone Fontana e Anna Toniolo, è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Io sono Anna Toniolo e questo era veramente il podcast di FACTA.